Buonasera, buonasera a tutti e tutte, grazie di essere venuti all'opening del festival l'art più be love, il festival con il titolo più difficile in Italia. Siamo qua oggi grazie alla squadra di Cine Glossa e di solito si fanno i ringraziamenti alla fine ma ci tengo particolarmente a fare dall'inizio. Quest'anno siamo in tanti, ci siamo divertiti molto a organizzare, allestire le mostre, le performance e a programmare i talk e quindi volevo intanto ringraziare tutto lo staff come prima cosa che ha reso possibile il festival e che si svolgerà dal 10 al 20, continueranno le mostre in questi giorni, in questi tre giorni invece cercheremo di concentrare dei momenti di attivismo e di partecipazione. E poi volevo ringraziare tutti i partner che sono stati con noi in primis, volevo ringraziare la Camera dei Deputati che ci ha concesso il suo patrocinio perché ha ritenuto questa iniziativa e i contenuti che avevamo meritevoli di essere raccontati e chi ha sostenuto a livello economico il progetto, quindi l'ha supportato la Regione Marche, il Comune d'Ancona, la Mole che ci ospita, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e quello della Famiglia, il Comune di Recanati, il Comune di Corinaldo con i quali abbiamo lavorato alla progettazione di BioRiro, la mostra che ci sarà domani, che inaugureremo domani, e una serie di partner locali del territorio, associazioni culturali, che hanno sviluppato con noi il programma, che sono Umanesima Artificiale, Asini Bardasci, il Centro Culturale Fonti San Lorenzo, il Collettivo Delirio Creativo, e infine il nostro media partner Italia che Cambia, che sta condividendo online e streaming adesso anche attraverso i suoi canali questi interventi, e il nostro book partner Fogola, che ci segue sempre e che ha fatto proprio l'altro ieri un intervento con Giulia Tomasello. Questo festival e i temi di questo festival nascono da molto distante, nascono nel 2001 addirittura, quando a Genova, tra l'altro Roberta di Genova adesso mi diceva, ci fu una manifestazione, una grande manifestazione durante il G8 e si riunirono moltissime persone, i cosiddetti no global, per portare un contributo a quello che stava accadendo all'interno di un palazzo nel quale si stavano decidendo le sorti economiche, soprattutto direi, del nostro mondo. E queste persone stavano portando, stavano dicendo che forse non era solo l'economia quella alla quale dovevamo stare attenti, ma c'era un cambiamento climatico in atto, che era molto pericoloso. E questo cambiamento però non era scollegato da altre disuguaglianze economiche, sociali, di genere. E durante quella manifestazione ci furono dei grandi atti di violenza che interruppero la democrazia. E da quel momento in poi in effetti c'è un grande silenzio. Sono passati vent'anni quasi. E dopo vent'anni si ritorna forse in maniera un po' più importante a parlare di alcuni temi. E ci si può chiedere che cosa accomuni appunto i cambiamenti climatici con le disparità di genere, per esempio. E forse è proprio un modello di governo e di pensiero che per tanti versi, nonostante abbia portato un progresso e un miglioramento della qualità di vita, è risultato fallimentare per tanti altri. Perché si è concentrato per esempio sulla competizione economica, invece che sulla cooperazione, sullo sfruttamento delle risorse e su un'organizzazione sociale in cui c'erano ancora diverse forme di disuguaglianza. Che è un modello evidentemente superato, ma che si fa ancora fatica a lasciare andare. Quindi se in questi vent'anni apparentemente non è cambiato quasi niente, perché le domande e le richieste sono sempre le stesse, in fondo forse alcune cose sono cambiate. Per esempio la tecnologia. La tecnologia ha fatto dei grandissimi passi avanti in questi vent'anni, ha fatto cose che non ci potevamo neanche immaginare alcuni anni fa. Ma i creatori della tecnologia, molto spesso le grandi multinazionali, non hanno negoziato con gli utilizzatori di questa tecnologia, effettivamente perché non gli è stato fortemente richiesto da nessun governo nazionale o sovranazionale. Adesso si inizia per la prima volta a fare alcune riflessioni e a chiedere con forza a queste multinazionali di stare attenti al modo in cui i valori che sono alla base del design della tecnologia debbano essere vicini anche alle persone, debbano stare attenti anche ad alcuni aspetti fondamentali che riguardano ciascuno di noi, dalla privacy per esempio alla relazione che abbiamo con tutto quello che non è umano. I risultati di questo scollamento tra la partecipazione pubblica e l'innovazione tecnologica antropocentrica, perché è stata fortemente antropocentrica fino ad ora, sono di fronte agli occhi di tutti noi e il nostro pianeta si trova di fronte a delle sfide, a delle crisi enormi delle quali finalmente ci siamo resi conto. E per questo quindi abbiamo deciso di concepire questo festival come un luogo di attivismo, inteso come partecipazione ad immaginare degli scenari futuri tutti insieme. Quindi questo vuole essere davvero un posto di dialogo tra tutti noi, ispirato un po' al lavoro di Giulia Tomasello, che oggi è qua con noi, di cui inaugureremo poi la mostra alla fine di questo intervento, di questo talk. E abbiamo scelto tre temi che sono portanti del lavoro di Giulia, che hanno ispirato poi anche tutti gli altri interventi e tutto quello che vedrete durante questi giorni. I temi sono femminismi, cura e biodesign. Quindi si parla di biodesign, inteso nella relazione appunto tra l'umano e il non umano, e ce ne parlerà poi più avanti Giulia. Femminismi, c'è un grande movimento che non è un femminismo solo, di dialogo e di contrasto, di cercare di capire che cosa significa riportare al centro e consegnare un protagonismo a un pensiero che è stato per tanto tempo considerato secondario. E sabato parleremo di questo, ci sarà un talk dedicato proprio a donne e rivoluzioni. E cura. Cura in particolare, ci occuperemo in questo festival degli adolescenti. Ci siamo occupati in questi anni degli adolescenti, in questi anni della pandemia degli adolescenti, con grande attenzione. E continueremo a farlo in questi giorni perché hanno sofferto tanto, stanno soffrendo molto. Tutti noi abbiamo delle difficoltà, ma in particolare gli adolescenti hanno bisogno di capire come si posizioneranno nel loro futuro. E in questo senso noi ci sentiamo forti perché anche in Europa si sta muovendo un grande movimento, lanciato da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, appunto una donna, per un nuovo New Green Deal europeo. Il movimento lanciato si chiama New European Bauhaus, Sine Glossa è felice di essere uno dei 30 partner italiani del New European Bauhaus, che vuole pensare che la transizione ecologica non sia solo tecnologica, come in diversi altri contesti sta avvenendo, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, le due grandi superpotenze, ma possa tornare ad unire umanesimo e scienza e che quindi si ha bisogno non solamente di informatici e scienziati, ma anche di artisti, designer, antropologi, per costruire un nuovo paradigma che è prettamente europeo, perché la culla di un certo tipo di cultura è nostra, è prettamente europea, è fortemente identitaria, per un futuro che sia non solamente tecnologico, ma anche bello, sostenibile ed inclusivo. Sono questi tre i valori portanti alla base del New European Bauhaus che in questi giorni festeggiamo e ci auguriamo che diventi poi un paradigma condiviso da tutti gli altri. Ecco, il festival di quest'anno quindi è dedicato a chi era al G8 nel 2001, forse qualcuno di voi c'era, ma anche a tutti quelli che stanno continuando a partecipare, ad essere attivi per immaginare questo futuro insieme. Possiamo cominciare. Cominciamo questo primo incontro Biofilie con Giulia, per l'appunto Giulia Tomasello, che è una designer italiana pesarese in realtà, che combina biotecnologie e wearable technology, ci spiegherà poi anche di che cosa si tratta, per rompere i tabù sui corpi delle donne, vincitrice nel 2018 dello Starts Prize, che è un premio che forse è il premio europeo più importante, assegnato ai progetti che rappresentano alleanze innovative tra tecnologie e pratiche artistiche. Il suo lavoro multidisciplinare ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il World Homes Heroi Japanese Award 2020. Giulia al momento è visiting lecturer per la sua università italiane-europea e porta avanti il suo impegno educativo con Coded Bodies. Abbiamo con noi anche altri due ospiti, che presenterò poi più nel dettaglio, Roberto Danovaro e Letizia Rigazzi. Partiamo da Giulia, e vorrei farti una prima domanda, Giulia, sul termine biofilia, da cui anche il titolo della mostra, la mostra si chiama Biofilie, è stato per la prima volta utilizzato questo termine, nel senso specifico di passione per la vita, negli anni Ottanta da Robert Wilson. Da quel momento diverse pratiche, sia artistiche che scientifiche, hanno cominciato a utilizzarlo, sebbene non sia ancora fortemente conosciuto. La tua ricerca ne è fortemente influenzata, anzi forse direi che è uno dei principi ispirazionali assoluti della ricerca che hai condotto negli ultimi anni. Allora, prima di scaldarci, entrare poi nel vivo del tuo lavoro, ti vorrei chiedere proprio di parlare un po' nel dettaglio di che cos'è la biofilia. Buonasera a tutti e a tutte, sono Giulia Tomasello, è un onore essere qui perché è da tanti anni che non sono a casa, diciamo in Italia, ma proprio anche a casa, a Pesaro e nelle Marche, quindi è un onore essere tornati da un po' di mesi ed essere stati invitati da Sineglossa per portare i miei lavori un po' vivi e anche raccolti in un solo spazio perché molto spesso invece sono sempre stati disparati e abbiamo deciso di chiamare la mostra biofilia proprio per questa cura a tutti i corpi, corpi umani e corpi non umani e quindi ad avere una visione quasi inclusiva di quello che in realtà noi quotidianamente ci prendiamo cura e di questa simbiosi che quotidianamente noi abbiamo con i microrganismi che fanno parte di noi e che quindi siamo fatti anche, siamo noi. Nella mostra, parlo della mostra? No, parlo di biofilia? Sì, dai, perché no? Diciamo sì che il titolo biofilia non solo viene perché è ispirata da Wilson ma anche proprio per questa attenzione che dai miei studi da designer mi sono interrogata su come in realtà questi batteri avessero una forte simbiosi con noi ma che allo stesso tempo sono invisibili. Noi non vediamo che abbiamo una flora, un microbioma nella nostra pelle, una flora nella nostra bocca, nel nostro intestino, nella nostra flora vaginale ed è proprio la flora vaginale che in realtà è stata quella che a me mi ha ispirato di più perché è fatta per la maggior parte da lactobacilli che in realtà sono gli stessi probiotici che noi mangiamo per esempio nello yogurt e da qui infatti poi si riattacca anche il tema femminismi e anche un po' un nuovo termine che io ai tempi ho cognato con female biofilia che sta proprio a rappresentare questa simbiosi tra il non umano e l'umano che in realtà gira attorno alla sfera intima femminile. E diciamo che il mio approccio alla biofilia è stato anche molto non accademico, molto più punk e hacker. Quello che ho fatto da biohacker è cominciare a crescere batteri in casa, una pratica che magari non è consigliata ma che da biohacker, quindi da designer, ho fatto per cercare di capire come fossero anche questi batteri visibili a livello anche estetico e ad occhio nudo. E naturalmente l'ho fatto seguita da dei biologi che comunque mi aiutavano a capire se qualcosa stesse crescendo bene o no. E però io crescevo comunque dei lactobacilli e dei probiotici, quindi non cercavo di non mettermi troppo nei guai. Però parliamo comunque del 2015 quando appunto avevamo anche una visione diversa dei batteri, dei microrganismi ed è stato proprio per me un approccio proprio curioso, diciamo, non scientifico, ma più con una quasi passione verso la scienza ed è infatti anche un approccio che in inglese si dice citizen science, cioè di cittadino scienza, di rendere quindi quello che in realtà molto spesso è quasi chiuso nelle istituzioni e chiuso nei mondi a sé, renderlo anche visibile e disponibile per tutti. E quindi perché no che magari invece anche noi donne un giorno tramite la scienza che tutte possiamo imparare possiamo anche prenderci cura del nostro corpo. Bene, una prima introduzione al tuo lavoro, ti vorrò fare altre domande. Passiamo adesso invece a uno scienziato. Abbiamo voluto in questo talk creare uno spettro molto ampio di competenze e di saperi proprio per avere diversi punti di vista. Abbiamo con noi Roberto Danovaro che è un biologo, è professore di ecologia e sostenibilità ambientale presso l'Università Politecnica delle Marche. Ha una serie di titoli che vi vorrò leggere. Presidente della stazione zoologica Anton Dorn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Presidente della Società Italiana di Ecologia, della Società Italiana di Limnologia e Oceanografia e della Federazione Europea delle Società Scientifiche. Membro di diversi panel internazionali, dell'Accademia delle Scienze dell'UE, autore di 450 pubblicazioni e tre libri. Ha ricevuto il premio BMC Biology a Londra, il premio della Società Francese di Oceanografia e il premio ENI Protezione dell'Ambiente. Nel 2020 EsperScape l'ha nominato come il più influente scienziato in oceani e mare per il decennio 2010-2020. Abbiamo quindi di fronte uno scienziato a tutti gli effetti che potrà raccontarci un po' meglio alcuni aspetti che abbiamo già toccato. Questo è un applauso, diciamo, per ora un applauso ai titoli. Su la fiducia. Per ora un applauso alla fiducia. Allora, Roberto, partiamo da qualcosa che studi da anni, di cui ti occupi da anni e di cui si sta parlando moltissimo in diversi ambiti, gli ecosistemi. La diffusione di questo concetto, anche a livello mainstream, è probabilmente uno dei principali segnali che stiamo cominciando ad avere un rapporto, diciamo, una percezione meno antropocentrica alla conoscenza, avvicinandoci ad una relazione più orizzontale tra ciò che è umano e ciò che non è umano. Allora, partendo proprio dalle basi, perché, diciamo, c'è un pubblico che non necessariamente è un pubblico scientifico, che cosa sono gli ecosistemi e cosa ci insegna la scienza rispetto al rapporto tra l'uomo e la natura? Allora, intanto, buonasera a tutti e grazie per questa introduzione che mi onora, ma, insomma, vi lascerà delusi sicuramente, perché, sì, io intanto sono un biologo e quindi un biologo non può essere, diciamo, che un amante della conoscenza, della natura, in tutti i suoi aspetti, e sono anche un ecologo perché in realtà la biologia non vive se non all'interno di un sistema, cioè di un'interazione tra ambiente e vita. E questa cosa è molto importante perché l'ecologia fa un passo in avanti rispetto alla biologia standard, perché gli organismi modificano l'ambiente, le rocce sono trasformate in terreno dalle piante, noi siamo dei consorzi in realtà, come è stato detto, noi siamo degli olobionti, noi abbiamo tutti questi microbiomi che ci permettono di svolgere delle funzioni essenziali, siamo un piccolo ecosistema ambulante che ci permette di vivere meglio. Ecco, quindi l'ecosistema sostanzialmente cos'è? Quell'insieme complicatissimo di interazioni tra organismi e ambiente che permettono al sistema di funzionare meglio. Ora, in realtà, la vita sulla Terra è nata circa 3 miliardi, 3 miliardi e 200 milioni di anni fa e all'epoca i primi organismi erano proprio dei microbi. Se noi respiriamo ossigeno è perché i primi organismi che hanno popolato gli oceani hanno cominciato a sviluppare la fotosintesi clorofiliana e a quindi produrre ossigeno. E quando solo dopo che un miliardo di anni ci è voluto circa hanno liberato questo ossigeno nell'atmosfera, l'atmosfera è diventata abitabile, ha schermato i raggi ultravioletti e ha permesso quindi la diffusione della vita anche sulla Terra emersa. Ora, in qualche modo, intanto, noi nasciamo dai microbi. Questo è il primo elemento fondamentale. Noi nasciamo dal mare, perché io poi sono marino, perché sono nati lì, e da lì è andata complicandosi. Il problema vero che ci tocca a tutti, anche nel termine di biofilia, è che la biofilia, secondo me, è uno strumento culturale della nostra sopravvivenza. È uno strumento di comprensione del fatto che noi non siamo soli sul pianeta, e lo sappiamo, ma pensiamo di poter vivere senza gli altri organismi. Cosa che invece non possiamo fare neanche senza i microbi di cui parlava lei. Basta che ci si alteri la microflora intestinale è che sappiamo che siamo attaccati nel bagno per un qualche giorno, no? Oppure possiamo essere, diciamo, colpiti da altre patologie. In realtà, ecco, il motore del pianeta è costituito dai microbi, che diceva lei. E noi organismi ci appoggiamo sopra questo enorme motore che fa funzionare tutto, produce ossigeno, regola l'equilibrio delle piante, regola tutti gli ecosistemi, rigenera tutta la materia organica, fa un'economia circolare della natura, d'accordo? Senza rendercene conto. Noi però siamo sulle spalle di un gigante invisibile, che è molto più robusto di noi. E il nostro equilibrio è molto, molto precario. Quindi l'ecologia ci sta insegnando, ci sta spiegando faticosamente, perché è una disciplina anche giovane, quanto siamo dipendenti da questi equilibri che si creano tra specie, e quanto in realtà tutti i beni, i servizi ecosistemici, anche quelli che diamo per scontati, dipendono dalla diversità delle forme di vita sul pianeta. E' quindi fantastico intanto parlare oggi, a poche ore, dell'approvazione definitiva, della modifica della Costituzione che ha introdotto la protezione dell'ambiente e della biodiversità, che sembra una cosa scontata, ma che appariva difficilissima da fare. quando in realtà è un elemento essenziale, perché quello che cerchiamo di dire noi ricercatori con evidenze di tutti i tipi, dai cambiamenti climatici a altro, è che la Terra non finirà grazie ai cambiamenti climatici, all'impatto dell'uomo, è l'uomo che si estinguerà, i microbi continueranno a esserci, e rigeneranno altre situazioni. Il secondo elemento che si lega a quello che dicevi tu, è quello che secondo me non è meno importante, del fatto che se noi alteriamo gli equilibri degli ecosistemi, in realtà non lo facciamo in modo omogeneo, e a pagare le conseguenze saranno in particolare le porzioni più deboli della società. Noi sappiamo già adesso, l'abbiamo visto anche l'esperienza del Covid, e tante altre pandemie che sono rimaste sommerse, o non evidenti, adesso stiamo affrontando delle pandemie di cui non parliamo, ma che colpiscono uccelli, maiali, che si stanno diffondendo, e sono altre forme di zonosi, cioè di malattie che gli animali trasmettono all'uomo, quindi presto parleremo anche di questo, semplicemente perché rompiamo degli equilibri naturali, ad esempio le pandemie tipo quelle da coronavirus si sono espanse perché abbiamo eroso le foreste, abbiamo avvicinato gli animali selvatici all'uomo. Allora, dobbiamo stare attenti a questi equilibri, e dobbiamo allearci con i batteri buoni, perché i batteri buoni in realtà sono quelli che ci schermano da quelli patogeni, ad esempio. E quindi capire di più questi equilibri è senz'altro molto importante. L'ecologia sostanzialmente si basa quindi sulla difesa degli equilibri naturali di cui l'uomo fa parte, e sulla difesa dell'unico capitale che è veramente democratico e comune, che è il capitale naturale. Ed è una cosa, tra l'altro, di cui non solo abbiamo bisogno per la nostra fisiologia, per respirare, per mangiare cibo sano, per respirare aria pulita, per bere acqua, non contaminata. Ma ci serve ancora di più perché l'erosione del capitale naturale è una perdita di tutti. E spesso questo invece avviene a vantaggio delle imprese, delle multinazionali, degli interessi, che importano i benefici di un'erosione degli ecosistemi, esportando poi agli altri il risultato che spesso è di difficile recupero. Per quello che adesso si parla non solo di sviluppo sostenibile, ma anche con un eccezionale collega, un economista qua della Politecnica delle Marche, Mauro Gallegati, abbiamo cominciato a parlare di sviluppo metasostenibile, nel senso che il bilancio degli ecosistemi è oramai in negativo da molti anni. Noi abbiamo alterato il 66% degli ambienti marini e il 75% degli ecosistemi terrestri. Se adesso cominciamo a dire non alteriamo più, vuol dire che comunque noi abbiamo sempre perso il 75% degli habitat terrestri e il 66% degli habitat marini. Abbiamo bisogno di sviluppo metasostenibile perché noi abbiamo bisogno di recuperare, non solo di andare a pari, ma di recuperare il danno fatto. Ed ecco che qui entrano in gioco le tecnologie di cui parlavi tu, perché le tecnologie sono state sviluppate finora, a partire dalla seconda rivoluzione industriale, per erodere. Abbiamo tagliato gli alberi delle foreste, abbiamo lasciato, no? e poi siamo andati a tagliarne degli altri. Abbiamo pensato a piantare gli alberi mentre li tagliavamo. Abbiamo solo tagliato, abbiamo solo pescato, abbiamo solo eroso e adesso è il caso invece di sviluppare quelle tecnologie che non ti permettono di pescare, tagliare, consumare di più, ma di farlo in modo sostenibile e allo stesso tempo andando a recuperare, a restaurare tutti quegli ecosistemi che abbiamo degradato. se lo facciamo abbiamo qualche possibilità in più di sopravvivere direi io tenendo conto del fatto che il taglio delle foreste ci sembra lontano come quello dell'Amazzonia ne ha parlato il Papa a Rai Tre pochi giorni fa ma noi stiamo perdendo l'ossigeno che respiriamo nel senso che l'ossigeno si genera solo con gli organismi che funzionano le piante dipendono da simbionti batterici. se noi in mare abbiamo perso negli ultimi vent'anni il 15% della produzione di ossigeno il mare produce il 50% dell'ossigeno globale un respiro ogni due che facciamo lo producono gli oceani l'altro ce lo regalano le foreste sulle termese gli oceani si stanno impoverendo a causa dei cambiamenti climatici che bloccano la circolazione e la fertilizzazione degli oceani per dirlo in modo molto semplice e noi in vent'anni abbiamo perso il 15% dell'ossigeno se nei prossimi altri vent'anni trent'anni perdiamo un altro 15% arriviamo al 30% al 40% e pian piano non avremo neanche più ossigeno da respirare questo non è un grido d'allarme è una ricerca che stiamo conducendo proprio in questi giorni allora si pensa già all'uomo che riparerà come buttiamo di nuovo fertilizzanti andiamo a operare in realtà le soluzioni che chiama la comunità europea e Ursula von der Leyen sono soluzioni basate sulla natura noi dobbiamo svilupparci creando occasioni di crescita e di sviluppo usando la nostra creatività e utilizzando la natura come sistema per rigenerare se stessa e ci sono due modi di farlo uno aiutandola e l'altro lasciandola in pace diciamo così ecco non so se ho spiegato bene quanto sono importanti gli ecosistemi per noi però questo è il messaggio chiave noi non siamo isolati dal resto del mondo e lo capiamo anche perché tutti noi abbiamo bisogno di natura nel senso che viviamo bene all'interno di una città però poi cerchiamo di evadere quando possiamo perché abbiamo un richiamo è il fatto che vogliamo immercerci in qualcosa di naturale desideriamo stare in mezzo al mare piuttosto che in un paesaggio dove non vedi una casa non vedi un grattacero non vedi un traliccio non vedi una centrale termoelettrica e dei fumi sparsi quindi questa necessità nostra è biologicamente connaturata con noi ecco noi siamo natura questo è il messaggio da capire prima ce ne rendiamo conto e meglio è grazie grazie Roberto hai parlato di quanto anche le imprese hanno fatto in questi anni per erodere per hanno seguito un certo tipo di modello invece abbiamo con noi non abbiamo con noi Eric Ezechieli ma abbiamo con noi una sua collaboratrice Letizia Rigazzi sei con noi è connessa forse eccola sì buonasera a tutti e a tutti Letizia ciao Letizia è Evolution Guide e Activism Champion di Nativa Lab che è appunto l'azienda di Eric Ezechieli nella quale lavora anche Letizia è Regenerative Design Company è prima B Corp e società Benefit in Italia e in Europa Letizia è una consulente e supporta l'evoluzione delle aziende verso un paradigma economico sostenibile e rigenerativo e segue l'esplorazione dei temi di attivismo aziendale e la loro applicazione quindi un tipo di azienda molto diversa rispetto a quelle alle quali siamo abituati laureata in filosofia specializzata in Green Management Energy and Corporate Social Responsibility alla Bocconi si occupa di sostenibilità dal 2016 e credo che tu sia anche forse direi un under 30 ma da quest'anno è il mio anno dei 30 quindi siamo molto felici di averti qui perché il festival diciamo anche il panel femminismi il talk femminismi che sarà sabato coinvolgerà delle donne è under 30 e vorremmo cercare di dare spazio diciamo a chi ha molte cose da dire ti vorrei fare una domanda proprio legata al mondo delle imprese se riesco a lasciare sta cartellina le imprese sono soggetti che sono dediti al raggiungimento del profitto e sono anche delle organizzazioni grazie alle quali la nostra qualità della vita ha raggiunto degli standard molto alti molto spesso però dietro a questi dati di fatto si nasconde un pregiudizio cioè il pregiudizio che la crescita o meno di un'impresa sia dettata da delle leggi di mercato globali sulle quali le singole imprese non possano incidere che dunque vadano colte le opportunità di mercato che si presentano indipendentemente dalle conseguenze che il modello di business di quelle imprese adotta e quello che produce negli esseri umani che producono negli esseri umani e nell'ambiente allora Letizia è davvero così o ci sono degli esempi che mostrano come si possa fare impresa e quindi fare profit produrre profitti mettendo al centro la biofilia ossia l'attenzione e la cura per le forme di vita presenti nel nostro pianeta allora la risposta innanzitutto è sì in particolare se pensate al business è qualcosa che non esisteva in natura il business è qualcosa che è stato inventato dall'uomo possiamo immaginarlo come una sorta di macchina a cui è stato dato uno scopo quasi una codifica un codice e questo scopo tradizionalmente è sempre stato quello di massimizzare e aumentare i profitti ecco in realtà senza andare troppo indietro nel tempo già imprenditori molto illuminati penso a Olivetti facevano riferimento a qualcosa che andasse oltre al ritmo apparente delle fabbriche quindi una sorta di vocazione ecco quello che stiamo vedendo anche con questo nuovo secolo è proprio il fatto che ci sia un vero e proprio cambio di paradigma quindi se inizialmente questa indicazione questa vocazione si legava alla massimizzazione del profitto questo paradigma ora abbiamo capito che non funziona più quasi come se il capitalismo nella sua concezione insomma tradizionale ed addizionale fosse in qualche modo rotto diciamo che la buona notizia è che questo capitalismo può essere riparato e già ci sono esempi virtuosi di questo dando proprio una nuova vocazione una nuova intenzione ovvero quella di andare a includere un nuovo tipo di risultato che è quello dell'impatto dell'impatto positivo generato per gli stakeholder questo è un tema che si un termine che si sta tantissimo nel business che viene tradotto come portatore di interessi ma in realtà per ricollegarlo appunto ai temi che discutevamo prima potremmo parlare di ecosistema cioè le aziende e i business sono al loro interno degli ecosistemi hanno diverse funzioni persone che interagiscono appunto tra loro ma fanno anche parte di un ecosistema più ampio pensiamo a tutta la catena di valore dai fornitori alle comunità in cui le aziende si inseriscono su cui impattano e con cui interagiscono quindi c'è un vero e proprio cambio di paradigma quindi dal profitto alla creazione intenzionale di impatto positivo quindi possiamo aggiustare questo capitalismo ci sono dei modelli che insomma codificano questa intenzione e sono in particolare due vorrei raccontarveli brevemente farvi anche proprio un esempio di un'azienda virtuosa tra quelle italiane che le adotta il primo è quello del modello delle società benefit si tratta di aziende comunque for profit quindi questa dimensione viene mantenuta ma sono aziende che cristallizzano all'interno del proprio statuto quella che Olivetti definiva come vocazione quindi in che modo vogliono creare impatto e se pensate allo statuto è un documento che magari tradizionalmente non è così ispirante o ispirato ma in realtà è quasi come se fosse una sorta di istruzione genetica per l'azienda e andare a agire su questa cambiandone proprio lo scopo è una vera e propria rivoluzione se ci pensate e quindi queste aziende vanno a cristallizzare la loro vocazione ma allo stesso tempo si impegnano per misurarla e rendicontarla quindi uscendo anche magari di dinamiche che si vedono magari negli ultimi anni che si sono viste di impegni presi nei confronti della sostenibilità e degli impatti ambientali e sociali che le aziende vogliono avere che poi magari mancano di concretezza sotto di loro e quindi queste aziende si misurano attraverso appunto diversi standard modelli uno tra questi è quello che appunto promuoviamo come nativa e che appunto ci vede proprio come certificata secondo questo stesso è quello delle B Corp quindi aziende che vogliono misurare i propri impatti di sostenibilità rispetto a quella vocazione che si sono dati e considerando la sostenibilità in una dimensione sistemica quindi non parliamo solo di sostenibilità ambientale ma parliamo anche di sostenibilità sociale in apertura dicevi appunto qual è il nesso tra problemi legati alla diversità disparità di genere e ai cambiamenti climatici siamo in un sistema che è interconnesso e l'interdipendenza è uno proprio dei principi chiave di queste aziende appunto delle B Corp proprio perché è quasi come se noi avessimo la percezione di essere attori distinti appunto come come si diceva poco fa in realtà è proprio come se pensassimo alla terra e i propri continenti li vediamo divisi dalle masse d'acqua in realtà se togliessimo l'acqua la terra rimarrebbe comunque unita e quindi è proprio questo il cambio di paradigma che sta avvenendo quindi la comprensione di essere parte di sistemi complessi ma tra loro interdipendenti e quindi agire su un sistema in modo positivo beneficia l'intero sistema allo stesso modo agirne senza appunto tenere conto degli impatti quindi generando non tanto una forza rigeneratrice ma agendo in modo estrattivo quindi prendendo più valore di quanto se ne remette ovviamente questo crea un malessere all'interno dell'intero sistema quindi ci sono tantissime aziende nel mondo più di 4.000 che seguono questi modelli in Italia è una comunità molto virtuosa ci sono più di 140 aziende che hanno deciso all'ilà di ottenere questa certificazione di abbracciare questa filosofia e una di queste è proprio il gruppo Aboka vi racconto cosa fanno proprio molto brevemente si tratta di un'azienda che è leader nell'innovazione terapeutica attraverso integratori medicinali costruiti su complessi molecolari naturali si tratta di tre aziende in particolare Aboka Apoteca Natura e Afam farmacie quindi anche qua iniziamo a aumentare il numero di attori e parlare ancora una volta in termini ecosistemici e di base appunto questo gruppo ha fatto della comprensione dell'importanza dell'interdipendenza e della complessità sistemica il proprio motore guida nelle loro azioni sono B Corp sono società Benefit e da questa comprensione hanno sviluppato quello che è una vera e propria cura quindi torniamo un po' al concetto anche appunto di biofilia una cura per tutto ciò che fa parte dell'ecosistema più grande in cui l'azienda è inserita quindi il loro approccio prevede un'attenzione alla coltivazione delle materie prime che vengono appunto controllate e coltivate direttamente proprio dall'azienda secondo i principi di agricoltura biologica un rispetto anche dell'eredità e della conoscenza delle persone che in azienda appunto operano da più anni recuperando anche proprio le ricette storiche quindi anche mantenendo proprio un'eredità a livello di cultura che ci dà proprio questa guida anche nella contemporaneità fino ad arrivare poi anche all'attenzione rispetto ai temi di distribuzione e degli impatti che la distribuzione delle loro merci ovviamente hanno fino ad arrivare poi ovviamente anche ai benefici per le persone che utilizzano questi medicinali ecco è proprio un approccio ho ripetuto questo termine diverse volte ma credo che valga la pena focalizzarsi su questo sistemico quindi non è più possibile pensare di risolvere la complessità in cui siamo agendo verticalmente su un unico sintomo tra quelli appunto che il pianeta terra oggi ci pone davanti ma è necessario appunto un'azione collettiva e sistemica quindi questa è proprio una visione di sostenibilità che va al di là delle dimensioni tradizionali che siamo abituati a considerare e che pone un impegno veramente orientato a soddisfare quella vocazione di cui parlavamo quindi anche il business si sta impegnando in questa direzione non voglio passare il messaggio che siamo già arrivati a un risultato soddisfacente perché c'è ancora tanto da fare ma ci sono esempi virtuosi appunto molto virtuosi tra le aziende italiane non solo come quello che vi ho citato che sono sicuramente da prendere come esempio grazie grazie Letizia come vedete diciamo questo è un talk ecosistemico perché abbiamo abbiamo cercato proprio di crearlo in questo modo quindi con il mondo della cultura del design il mondo della scienza il mondo dell'impresa sono tre sistemi che devono andare cioè sono tre settori che devono dialogare devono andare insieme e dimostrano che ci sono già degli esempi attivi e che questo cambio di paradigma è possibile tornerò da Giulia alla fine per raccontarci un po' meglio la mostra torno invece adesso da Roberto e vorrei parlare del metodo scientifico il metodo scientifico è stata una enorme rivoluzione forse la più grande degli ultimi secoli che procedendo attraverso una conoscenza costituita dei linguaggi codificati ci ha consentito di migliorare fortemente la qualità della vita è di imparare moltissimo dopo il rinascimento in particolare la scienza si è andata noi siamo molto affezionati a questo festival al tema del rinascimento anzi i Cinegloss abbiamo uno dei pay off benvenuti nel nuovo rinascimento perché appunto nel rinascimento quello che succedeva è che le diverse competenze erano messe al sistema per produrre per produrre innovazione invece diciamo la scienza dopo il rinascimento si è andata distinguendo dalle discipline umanistiche conquistando un suo terreno autonomo e questa divisione anche se è stata indispensabile poi per alcuni diciamo strumenti di conoscenza che abbiamo acquisito ha portato a una separazione che ha costruito dei codici tra umanesimo e scienza così tanto diversi che ha reso per diversi secoli molto difficile la comunicazione tra mondi apparentemente così distanti in questi anni però si sta iniziando ad assistere un po' a un riavvicinamento anche a un interesse del mondo scientifico per esempio possiamo pensare a tantissime mostre realizzate a livello globale in particolare anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare proprio adesso a Palazzo delle Esposizioni a Roma una mostra dedicata al racconto della scienza e si stanno costruendo anche dei gruppi di ricerca finalmente interdisciplinari quindi gli scienziati non stanno più solo con gli scienziati e gli umanisti non stanno più solo con gli umanisti in particolare per esempio su alcuni temi legati all'intelligenza artificiale che di per sé richiede necessariamente essendo una disciplina molto complessa tantissime competenze diverse quindi si sta tornando lentamente a fare strada a questa idea che per rispondere alla complessità anche di cui parlava Letizia prima non basta più attingere solo alla conoscenza scientifica ma serva a qualcos'altro ecco tu da scienziato come vedi questo complicato ma anche stimolante rapporto lo vedo da diversi punti di vista intanto come dicevi tu la rivoluzione del nostro pensiero si basa sul fatto che la ricerca scientifica ha introdotto un elemento nuovo il fatto che nella ricerca che si basa su dati quello che facciamo nelle condizioni in cui lo facciamo determina dei risultati che devono essere verificabili da chiunque quindi non esprimiamo un pensiero ma semplicemente un metodo un protocollo che deve essere corretto che dà delle risposte quindi permette una validazione se tu non credi nei miei risultati li rifai e se ottieni gli stessi è difficile che tu dica quindi che sono inventati e se non sono giusti si va avanti sinché non si trova il risultato giusto che non è quello che vogliamo noi è quello che effettivamente dice l'esperimento questo è un primo dato però l'esperimento si basa sempre su delle ipotesi e le ipotesi sono generate dalla creatività quindi il primo elemento di contatto questa rivoluzione che è importante perché basarci solo sulle opinioni è rischioso il primo elemento è la creatività perché un ricercatore che sembra invece un produttore di dati elaboratore di statistiche eccetera in realtà non è niente se non ha una grande idea una grande idea che è generata evidentemente dalla nostra fantasia creatività quindi ci unisce all'aspetto umanistico design creatività ma che è anche influenzata dal contesto sociale dal momento politico perché anche i grandi momenti di esplosione della ricerca partono da momenti di necessità da grandi crisi di pensiero pensa anche alla nascita dell'ambientalismo negli anni 70 alla paura della guerra fredda alla paura nucleare è lì che è nato il problema dell'ecologia di quanto l'uomo può distruggere il pianeta poi l'abbiamo declinato in diversi modi io mi ricordo che nell'evoluzione dei grandi momenti di studio ad esempio rispetto all'ambiente abbiamo vissuto inizialmente appunto la paura del nucleare che ha ispirato molte anche battaglie anche dalla classe operaia degli anni 70 d'accordo da Guccini a Pierangelo Bertoli con tutte le canzoni che parlavano proprio di questa fibra impossibile del mondo poi c'è stato un momento in cui delle riscoperte occasionali ad esempio hanno rivelato il buco dell'ozono quindi il fatto che l'uomo stava con la produzione dei gas quelli dei frigoriferi consumandolo e quindi con il draggio il trevioletti e c'erano i bollettini in cui potevi uscire e non uscire di cà poi c'è stato il momento delle grandi tempeste delle esplosioni di malattie e quant'altro e adesso stiamo vivendo con una maggiore consapevolezza una cosa che si è scoperta quasi 60 anni fa i cambiamenti climatici ora ci sono dei momenti che sono ispirati da contingenze e da flussi di pensiero che poi ispirano i ricercatori per farsi delle domande nuove quindi l'aspetto della credibilità è uno il secondo aspetto importante è che la scienza ha bisogno dell'arte per esprimersi non ha bisogno non solo perché in realtà la scienza anche le scienze naturali Aristotele come descrittore i primi organismi ha cominciato a fare una prima analisi sistematica della diversità vabbè confondeva piante e animali però poi ci siamo arrivati col tempo adesso in circa poco più insomma di 2000 2500 anni da quando l'uomo ha cominciato proprio in modo sistematico a scoprire la natura intorno a sé abbiamo censito un milione ottocentomila specie di organismi tra piante e animali lasciamo partire i batteri che è un problema molto più ampio e le stime che abbiamo è che ci sono però 8 milioni ne abbiamo scoperto 1.800.000 ci sono 8 milioni di specie da scoprire più o meno ancora quindi il lavoro è ancora molto molto lungo ma sostanzialmente il problema qual è? che questa rappresentazione è stata sempre basata su disegni su forme artistiche che tuttora sono dei manuali di riconoscimento quindi anche i sistemi più elaborati di immagine di analisi e di quant'altro ricostruiscono solo una parte diciamo della realtà della ricerca il secondo elemento che ci lega anche a forme di rappresentazione di immagini eccetera è legato al fatto che tu non riesci a rappresentare fenomeni complessi ecosistemici con una fotografia una fotografia ti fa vedere un paesaggio non ti spiega come interagiscono le diverse cose quindi l'immagine e l'arte possono aiutare il processo diciamo di spiegazione e rappresentazione di questo tanto è vero che recentemente le riviste scientifiche quasi tutte hanno introdotto un graphical abstract cioè che nel lavoro non c'è solo il titolo la sintesi ma tu gli devi dare anche un'immagine che rappresenta un po' il messaggio da portare a casa di tutto il lavoro e guardando questa immagine tu capisci il senso e lo puoi raccontare lo puoi mostrare ecco credo che questo aspetto sia rappresentativo simbolico dell'importanza di questa cooperazione e poi il fatto che comunque sia la ricerca tende molto a essere una sorta di imbuto che parte da problemi magari ampi e poi però li va a analizzare una cosa molto specifica e ogni volta fa un piccolo tassello di un puzzle per ricostruire un'immagine della realtà si avvicina alla realtà ma per trials and errors provi, sbagli ti avvicini nessuno ha la verità ci avviciniamo progressivamente a scoprire che cosa è veramente reale che quali sono i meccanismi che guidano delle risposte come funzionano gli ecosistemi ecco questo meccanismo tende a rendere la scienza troppo specifica nei dettagli e poco capace di visione ecco che quindi riflettere confrontarsi con filosofi storici creativi designer eccetera aiuta ad avere una percezione anche di quello che deve essere un orientamento che restituisca in una sorta non di imbuto ma di clessidra in cui tu parti dal grande arrivi al piccolo ma poi riesci a far ricadere le prospettive di quello che fai che sono prospettive sociali sono prospettive economiche e quant'altro questo è il primo legame con gli aspetti più artistici e il secondo legame è però con quelli economici perché quello che noi facciamo adesso parte da che cosa? dal fatto che la scienza abbia potuto dimostrare che quello che facciamo determina dei danni non è un problema poi quando la scienza dà i dati dici porca miseria è vero effettivamente 40 anni fa non era così però noi tendiamo a perdere un po' la memoria di quello che abbiamo vissuto della naturalità di certe cose la scienza ci dà una misura di questo e ci dà anche nuove tecnologie quelle buone e ci dà anche nuove soluzioni ecco quindi che diciamo le imprese più intelligenti le fanno proprie semplicemente perché oggi come oggi solo un pazzo investirebbe in combustibili fossili giusto? ci sono però diciamo non ha lunga prospettiva per quello che anche le aziende che fanno più profitto ma non hanno una prospettiva di sostenibilità di visione green e blu non raccolgono consensi e anche i più grandi gruppi investitori del mondo quelli che scelgono dove mettere miliardi e miliardi di dollari non vogliono investire minimamente in imprese in cui il destino è di sostenibilità e quindi è senz'altro una necessità ma anche un'opportunità così come lo è per tutti i giovani capire che più si legano da qualunque sia la prospettiva culturale alle tematiche dell'ambiente della sostenibilità declinandola in tanti modi diversi dal design della filosofia dell'economia all'ingegneria hanno un futuro mentre chi guarda ancora al passato secondo me è destinato a entrare in una nicchia di estinzione insomma grazie e allora pensiamo al futuro sogniamo Letizia sei con noi siamo immaginiamoci di essere nel 2030 e immaginiamo un futuro in cui ci chiediamo quali sono i principali ostacoli che in questo futuro nel 2030 siamo riusciti a superare che hanno consentito alla maggior parte delle imprese di abbracciare il paradigma di cui parlava proprio adesso Roberto di cui parlavamo anche di cui si parla in questo talk ecco biofilia e quale contributo a questo grande cambio di paradigma hanno dato l'arte la cultura e le scienze umane quindi pongo questa domanda anche a te grazie grazie mille si sono già emersi veramente degli spunti molto molto interessanti e mi fa un po' sorridere il 2030 lo vediamo come futuro ma in realtà è un futuro vicinissimo perché è qualcosa veramente che è dietro l'angolo sicuramente tocco degli elementi che sono già parzialmente emersi un primo punto che mi viene sicuramente in mente è quello proprio dello sblocco di capitali l'indirizzamento anche qua con la consapevolezza di capitali per favorire la transizione ecco verso paradigmi che siano rigenerativi anche per il business lo scorso novembre c'è stata la COP26 la conferenza appunto delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow e proprio ho messo in modo molto chiaro come questi capitali fossero a disposizione il nostro stesso premio ha detto money is not an issue quindi i finanziamenti non sono un problema quindi nel 2030 sono ottimista spero che tutti questi elementi vengano sbloccati e ancora una volta appunto indirizzati per favorire e accelerare questa transizione dato che appunto anche l'Unione Europea ha degli obiettivi molto ambiziosi anche orientati al 2050 a un futuro leggermente più lontano però anche legato proprio alle missioni che vengono generate e essendo i business facenti parte proprio di questo grande ecosistema complesso hanno una grande responsabilità ma anche una grande opportunità come si diceva per raggiungere appunto questo questo obiettivo quindi transizione verso paradigmi rigenerativi sicuramente la tecnologia e le innovazioni sono fondamentali potranno proprio dare questa accelerazione e permettere di concretizzare e realizzare su larga scala questo cambiamento ricordiamoci che il nostro pianeta è un sistema che è chiuso per energia scusatemi per materia annetto di magari qualche asteroide che ci ha colpito è aperto per energia quindi tutto ciò che è stato creato appunto nel corso della sua storia di vita è ancora qui e questo è una riflessione molto importante perché anche rispetto alle tematiche legate alla crescita della popolazione ci si deve chiedere come vogliamo crescere c'è la possibilità di crescere secondo nuovi paradigmi e questo non sarà semplice non sarà semplice la tecnologia ci aiuterà ma c'è anche una dimensione prettamente umana molto profonda legata a come vivremo questo cambiamento e al cambiamento che sarà richiesto anche alle future generazioni che sicuramente non è indifferente quindi nei prossimi dieci anni sicuramente sarà anche fondamentale e speriamo di riuscire a raggiungere questo obiettivo un lavoro a livello proprio di cultura e pensando appunto a proprio la tua domanda mi viene in mente Ioanna Messi che è un'attivista ambientalista filosofa scrittrice insomma una serie di titoli anche lei innumerevoli che appunto teorizzato anche appunto concetti come quella dell'ecologia profonda e proprio in uno di questi approfondimenti in uno dei dei suoi libri lei parla proprio di questa grande great turning quindi questo grande cambiamento questo grande giro di boa che ci viene richiesto di fare non per tornare indietro ma per andare avanti con dei nuovi principi nuovi principi di design che ci possano permettere di fare scelte e operare in un modo che garantisca sia il soddisfacimento dei nostri bisogni ma soprattutto alle future generazioni di poter soddisfare i propri e quindi le arti le scienze umane la parte di cultura sono fondamentali per aiutarci a gestire anche emozioni magari più più buie come può essere quella della paura l'ostilità il cambiamento oppure anche proprio quella legata al dolore il dolore per dei cambiamenti che vediamo essere estremamente impattanti in modo disuguali perché impattano così come si diceva prima ma che hanno proprio anche questa dimensione più di sofferenza e quindi con l'arte questa tipologia di supporto si può sicuramente riuscire a trovare una chiave di lettura un nuovo linguaggio si diceva prima in cui anche riconoscersi e trovare il proprio modo personale di andare avanti come individuo e ovviamente poi come parti di comunità e parti di business quindi sicuramente hanno e avranno un ruolo sempre più fondamentale uniti appunto al supporto di innovazioni scientifiche e tecnologiche che permetteranno di poi realizzare operativamente questo cambiamento grazie Giulia torniamo all'arte al design e parliamo della mostra una mostra che ci vede impegnati da un anno e mezzo più o meno almeno nella concezione poi nell'ultimo periodo con un grande rush finale e io ho provato a descriverla come un laboratorio di ricerca scientifica un archivio di documentazione di pratiche femministe e un utero umido come si conciliano queste diverse anime nella mostra a biofilie che vedremo tra poco e che cos'è questa mostra ce la racconti? allora diciamo che la mostra e biofilie proprio cerca di raccontare un po' cosa vuol dire anche da un punto di vista di designer anche artistico e creativo conciliare tutte queste discipline insieme perché magari appunto uno scienziato ha un determinato linguaggio nel parlare di certi argomenti una designer lo prende da un altro punto di vista il business ancora ma allo stesso tempo poi per arrivare anche alla società per arrivare anche ad un certo cambiamento ad un nuovo approccio ad un nuovo linguaggio c'è proprio bisogno di mettere queste discipline insieme e io cerco di farlo un po' da diversi anni collaborando con scienziati e ingegneri che stanno alla University of Cambridge quindi in Inghilterra medical anthropology qua in Italia e altri esperti di diverso settore in base ogni volta a come a che tipo anche di discipline ci servono per affrontare certi temi e sì il mio tema principale è legato alla salute intima femminile però femminile diciamo che non guarda solo a corpi di donne nate con un sesso femminile ma anche donne che hanno un passato transgendere o donne trans e quindi si cerca proprio di capire come le innovazioni scientifiche ma anche tecnologiche possono arrivare a dare una nuova visione di quello che molto spesso sono i tabù legati al corpo delle donne un corpo che per millenni e sempre tuttora è legato a stereotipi pregiudizi discriminazioni e che tuttora anche nonostante siamo nel 2022 magari ci sentiamo moderni non abbiamo superato ancora non siamo in grado di parlare di normali situazioni quotidiane come fluidi vaginali come infezioni vaginali di menopausa noi siamo in grado proprio di anche parlare di piacere femminile piacere sessuale femminile intendo e perché no visto che comunque la tecnologia è quella che invece a fianco a noi sta sempre diventando più compagna e ci sta accompagnando per qualsiasi cosa ci sveglia al mattino ci quasi prepara da mangiare perché no che ci può aiutare anche in momenti di proprio più anche conforto quando in realtà la società stessa invece ci ha sempre imposto a neanche interrogarci sul perché magari alle volte non sto bene sul perché alle volte non riesco proprio anche a prendermi cura di me stessa come persona o me stesso come persona e secondo me secondo anche i miei collaboratori invece la tecnologia non deve essere o l'innovazione non deve essere solo quella scintilla che ci aiuterà a risolvere tutti i problemi del mondo ma solo uno strumento per farci capire che invece ci sono già certi atteggiamenti e approcci che potremmo fare la tecnologia ci può solo che supportare e aiutare quindi nel caso delle biotecnologie o del biohacking perché no collaborare con i batteri quindi prendere coscienza del fatto che siamo fatti di batteri che c'è una simbiosi costante che facciamo e che quindi se molto spesso anche un rimedio per esempio a un'infezione vaginale come una candida di tipo funghino può essere solo un antibiotico perché no invece che magari prendiamo un attimo consapevolezza che prevenire magari con l'utilizzo di probiotici potrebbe essere magari una soluzione che dura più a lungo ma invece poi porta a diversi benefici oppure per esempio quello che dicevamo prima della wearable technology in italiano si può dire tecnologia indossabile che è un'altra diciamo disciplina del quale mi occupo da diversi anni e che sarebbe proprio capire come i tessuti possono essere innovativi possono muoversi possono accendersi possono scaldarsi e quello che adesso noi vediamo molto spesso lo vediamo negli smartwatch che riescono ci sono dei sensori che riescono a capire il nostro battito cardiaco o a quanto passi stiamo facendo ma perché no che un giorno questa tecnologia nei tessuti stessi può aiutarci a capire se c'è qualcosa che non va nel nostro sangue se c'è qualcosa che invece non va nei nostri fluidi fluidi vaginali e quindi proprio cercare di prevenire per esempio infezioni o proprio a capire quali sono gli atteggiamenti che possiamo fare per prenderci cura e quindi nella mostra di biofile ci saranno il progetto Future Flora che è un kit pensato per le donne per prevenire e incurare le infezioni a livello batterico e quindi ci si pensa perché no ad un kit che in casa possiamo avere tutti i giorni dove cresciamo il nostro assorbente fatto di agar agar che è il stesso terreno di cultura che i biologi usano per crescere le piastre per crescere i batteri e perché no che in casa ci cresciamo i nostri lattobacilli o la nostra flora vaginale sana che può aiutarci a equilibrare quello che molto spesso invece è una flora diciamo stressata perché appunto si è stata dalla vita da come mangiamo dai nostri attività quotidiane e quindi indossare questa flora vaginale questa flora batterica nell'assorbente nelle nostre mutande per equilibrare la nostra flora batterica ci sarà anche il progetto Alma che è nato da Future Flora perché diciamo che Future Flora questo progetto appunto dell'assorbente batterico è stato formulato nel 2016 da me come studentessa ed è stato per lo più visto come una provocazione è arrivata la studentessa che ci dice a tutti di mettere i batteri nelle mutande in realtà la provocazione era se magari negli Stati Uniti ci sono già i biohacker che sono quelli che magari si impiantano le tecnologie nella pelle e questa è la verità per utilizzare diciamo la mano per entrare nella metro piuttosto che la carta perché no che noi donne un giorno sappiamo che non tutti i batteri sono maligno nocivi o depuricolosi abbiamo un incubatore in casa possiamo crescere in casa e possiamo prenderci cura del nostro corpo quindi ovviamente è una provocazione ma è una provocazione speculativa e quindi futura per in realtà far capire come le tecnologie possono essere integrate nella nostra quotidianità e nel lontano 2016 era stato appunto quasi non so la parola non considerato sminuito due anni dopo per esempio ha vinto appunto lo Starts Prize questo onore alla scienza e alla società come esplorazione artistica e da lì poi è nato appunto questo secondo progetto che adesso è quello che mi vede più impegnata e che ci sarà anche alla mostra che si chiama Alma e Alma invece appunto tende a sviluppare una tecnologia indossabile per aiutare le donne per capire ok abbiamo dei sintomi magari posso ci può essere un giorno una tecnologia o qualcosa che mi dice ehi sta succedendo questo c'è questo problema c'è questa infezione vai dal dottore prenderti cura naturalmente questo è anche uno scenario positivo e plausibile perché sappiamo benissimo magari molte donne sono fortunate che possono anche avere questa tecnologia la maggior parte no quindi quello che noi cerchiamo di fare è proprio anche capire da un punto di vista più etico inclusivo come la tecnologia anche DIY che vuol dire do it yourself cioè fartela da sola quindi quella un po' più anche semplice può arrivare come strumento per tutti per proprio anche prendersi cura di se stessi e questa anche tecnologia non la sviluppiamo solo noi nel nostro laboratorio e io come designer e l'antropologa Isabel che siamo lì a dire come potrebbe essere dal nostro punto di vista femminile ma lo facciamo con tantissime donne quindi facciamo laboratori di copartecipazione co-creazione e laboratori che abbiamo fatto all'inizio nel 2019 in Rio de Janeiro in Brasile poi in Thailandia Bangkok in Malesia in Svizzera in Italia con diverse generazioni da teenagers a donne in pre-meno pausa e meno pausa per proprio capire cosa in realtà le persone vogliono e quindi non arrivare che come spesso magari molte compagnie fanno portarti la tecnologia nelle mani questo è il telefono lo devi tenere così e tenerlo così ma magari no magari è una tecnologia che noi donne decidiamo come la vogliamo e come la vogliamo avere tutti i giorni con noi e gli altri progetti sono invece legati più a un linguaggio inclusivo e che dovrebbe magari essere già nella nostra società ma che non lo è ed è un linguaggio che noi affrontiamo spesso e sempre con questi laboratori o workshop io li chiamo laboratori in italiano ma in inglese appunto sono workshop e sono proprio in realtà momenti dove l'attività della parola o anche dell'uso dell'utilizzo del corpo può arrivare a creare nuove conversazioni che in realtà è quello che noi creativi facciamo spesso ci chiediamo domande per creare cose ma che invece portati nella società possono aiutare invece a stimolare nuove conversazioni quindi magari il fatto che molto spesso sono stata denominata con un certo nome con un pregiudizio o un giudizio non deve essere giusto devo incominciare a dire la mia e adesso magari è scontato dirlo ma molto spesso quando invece noi cresciamo siamo abituati nella società a sentirci dire certe cose non ce le opponiamo perché invece dovremmo rispondere e quindi è proprio un invito il progetto si chiama Nessun Exclus è un invito proprio a lasciare questa libertà di sentirci chi vogliamo essere e come vogliamo essere nella società e basta per il resto è un invito in realtà tutti voi a venire ad esplorare la mostra ci saranno anche altre installazioni di residenze che ha portato mio amico e collega di umanesimo artificiale e quindi buona visione se si dice e grazie per essere qua grazie Giulia sì ci sarà diciamo tra poco apriremo anche la mostra e ci sarà anche cellula in cellula automata un'installazione di Xavere Computery al termine del percorso espositivo di Giulia prima di andare a vedere la mostra vorrei sapere se ci sono delle domande c'è qualcuno che ha qualche curiosità sì abbiamo un microfono non so se si sente le sento da un po' di anni è sempre con lo stesso ottimismo verso il futuro ma sarà così? grazie ha fatto la domanda più difficile che potesse fare io di natura sono ottimista più che altro lo voglio essere lo voglio essere soprattutto perché ho dei figli piccoli l'età media si sta spostando rapidamente in avanti grazie ai progressi che stiamo facendo in tanti campi e quindi è normale aspettarsi diciamo una vita che vada tranquillamente oltre 90 anni tra l'altro dopo i 90 anni è stato dimostrato scientificamente che non esiste un limite effettivo della vita semplicemente che dopo i 90 anni hai una probabilità su due di morire quell'anno però se non muori quell'anno c'è una probabilità su due di morire quello dopo cioè quindi tu hai il 50% per i prossimi 50 anni di vivere o morire chiaro che sparare un proiettile ogni due diciamo non è che sia però questo per dire che la vita è una limite detto questo la battuta è i bambini piccoli vedranno quello che per gli scienziati è diciamo un po' la fine del mondo nel senso il 2100 che vivranno i nostri ragazzi che adesso sono elementari i nostri ragazzini nipoti figli loro lo vedranno io sicuramente no ma loro vedranno se queste previsioni sono corrette allora che problemi hanno le previsioni che molto spesso i scienziati o chi contesta i dati scientifici dice che ci sono degli errori ma gli errori sono rispetto all'accuratezza delle misure voglio dire se io ti dico tu sei con una macchina e sei in autostrada l'autostrada ha un burrone un ponte morandi crollato tra 900 o 950 metri tu gli dici vado avanti perché c'è un margine di errore di 50 metri o dici mi fermo ecco il problema vero è che da un lato continuiamo a presentare le evidenze scientifiche come ancora prodotto di errore non sappiamo se diciamo quei dati che sono irreversibili arrivano tra 900 e 950 metri ma arrivano questo è il primo dato il secondo è però che i sistemi sono resilienti questa è una parola che piace molto anche diciamo al di fuori della scienza ma in termine ecologico resilienza è se tu smetti di spremere un ecosistema lo lasci in pace questo recupera da solo poi è stato usato in sociologia in psicologia in quant'altro ma di fatto resilienza è il tempo che ci mette a un sistema a ritornare alle sue condizioni originali se tu togli l'evento di disturbo questa è la cosa allora noi abbiamo a che fare con qualcosa viva che siamo noi che è il ecosistema intorno a noi quindi la risposta è sono ottimista se ci rendiamo conto dell'urgenza di agire sono profondamente pessimista se noi invece non ce ne rendiamo conto o meglio e lo viviamo anche tutti i giorni qua da un lato pensiamo che sia giusto ma poi non facciamo le scelte giuste da un lato firmiamo gli accordi internazionali AIC COP26 eccetera e poi invece autorizziamo ancora altre cose fossili non lo facciamo noi siamo bravissimi a dire e essere d'accordo su quello che dovremmo fare siamo pessimi nel farlo anche quando questo non rappresenta un elemento di sacrificio ma poi esistono dei problemi importanti e anche dei conflitti forti allora io sono ottimista se noi andiamo verso la transizione ecologica e andiamo verso le energie rinnovabili ma caso strano appena andiamo verso le energie rinnovabili che sono l'unico sistema che abbiamo per non alterare il clima viene fuori il fatto che però non si può fare a meno dei combustibili fossili caso strano ti aumenta la bolletta e se tu ti fai solo le rinnovabili la bolletta ti raddoppia e poi ieri al telegiornale che forse un po' di riscaldamento con la fusione nucleare si può fare dando le speranze che sono delle illusioni questo è veramente su questo sono pessimista sul fatto che l'uomo possa pensare che esista un altro pianeta abitabile che è la più grande menzogna dell'umanità quelli che dicono andiamo a cercare la vita altrove così andiamo là stanno prendendo in giro il mondo perché noi abbiamo un pianeta solo dove si è evoluta la vita i nostri microbi e noi altri e non ce ne sono altri da abitare e sicuramente non per noi per i figli per i neputi e per nessuno quindi se io vi dico che adesso stiamo spendendo dieci volte di più per esplorare lo spazio che per proteggere il pianeta mi credete? credetemi noi stiamo spendendo molto di più per cercare la vita sui pianeti dove ci sarà non ci sarà a me non mi interessa neanche so solo che stiamo distruggendo questa allora io non so se ho risposto sono ottimista se saremo abbastanza intelligenti per non so decidarci ma nella storia dell'umanità e nei cicli e ricicli di Vico di Vichiani io non sono sicuro di questo probabilmente l'uomo è bravissimo a reagire bene nei momenti di grande crisi di grande diciamo i grandi cataclismi le grandi guerre ma non è bravo a pianificare soprattutto gli italiani non sono molto bravi a pianificare però noi siamo legati a un sistema diciamo o andiamo tutti in una direzione o non ci va nessuno questo quindi adesso è più ottimista o più è neanche io allora quindi diciamo chiudiamo così siamo ottimisti se faremo quello che sappiamo essere giusto fare sono pessimista se continuiamo a fare come facciamo pensando che dovremmo fare qualcos'altro per fare la cosa giusta c'è forse spazio per un'altra domanda se c'è c'è una domanda si faccia una domanda a Giulia Tomasello mi chiedevo se nel suo lavoro di designer che appunto ci ha raccontato già un po' come si confronti con tante dimensioni però ci fosse spazio insomma se fosse guidato anche da elementi più artistici appunto elementi di bellezza di armonia o ergonomicità nel senso da designer cioè se ci fossero dei valori che in qualche modo aiutano il tuo lavoro a confrontarsi con questi temi così diversi quindi con questi campi così diversi grazie per la domanda sì quotidianamente perché basta pensare al se il kit di Future Flora non fosse in vetro rosa è comunque piacevole anche di avere di tenere in casa e di utilizzarlo magari non lo faremo cioè molte donne non solo non vorrebbero indossare batteri ma secondo non vorrebbero utilizzare qualcosa che sembra prettamente medico scientifico che alquanto invece ci spaventa e ci mette terrore quindi sì in realtà la parte estetica gioca molto però allo stesso tempo quello che noi cerchiamo sempre di fare è che proprio sia accompagnata da quello che in realtà deve anche rispecchiare quello che la società sente per esempio le mutande di Alma quindi dei primi approcci anche di design artistici che abbiamo fatto per integrare la tecnologia nelle mutande hanno dei colori che rispecchiano un po' la volontà di quello che sono state le donne con le quali abbiamo fatto i workshop e anche lo stesso design se pensate a una mutanda per esempio che può essere più femminile è una mutanda invece che può essere più adatta a chiunque abbia dei fluidi vaginali quindi qualsiasi persona e sembra un po' scontato però in realtà non lo è e penso che adesso siamo molto fortunati o perlomeno io che faccio questi lavori sono molto fortunata ad essere in un'onda diciamo femminista ormai quasi superato ben ci siamo ben sistemati quasi siamo arrivati anche a capire un'identità di genere più fluida come si dice qua in Italia quindi proprio più anche aperta ad accettare il fatto che chiunque può essere chi vuole e però deve rispettare questo anche il design non sempre lo è e noi lo stiamo cercando di fare soprattutto anche di capire come una tecnologia che molto spesso anche quella scientifica è difficile da portare in oggetti del quotidiano può invece arrivare ad arrivare anche con un linguaggio semplice che noi tutti possiamo accettare anche di diverse generazioni perché è il punto anche voglio fare una cosa che sia per ragazze o donne della mia generazione voglio invece anche andare a capire come posso aiutare per esempio mia nonna che magari appunto ha superato la menopausa da tantissimo tempo però allo stesso tempo si trova ancora con delle difficoltà nel gestire i suoi fluidi vaginali o delle infezioni e lei più di me ha proprio una barriera anche linguistica nel porsi nel chiedere aiuto quindi sì il design e l'arte serve proprio a creare queste forme immagini e letture di un'innovazione che invece si presuppone un giorno sarà con noi allora io ringrazierei moltissimo Roberto Danovaro Letizia Rigazzi e Giulia Tomasello per essere stati con noi e grazie a voi per essere stati con noi e ci vediamo alla mostra per accedere alla mostra bisogna scendere le scale e risalire per ragioni di sicurezza e ci vediamo tutti quanti di là grazie e più tardi ci sarà anche GPTE credo il performance di Francesca Gironi e Daniele Fabris e credo ci siano ancora 5-6 posti disponibili nel caso in cui qualcuno avesse voglia di partecipare grazie 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 a tutti